Sergio guarda che macchina che ho preso guarda qua questa qua è tutta quanta bellissima le mettiamo tutte quando sul camion guarda che macchina questa gialla è bella è bellissima è questa verde questa verde io questa la conosco quindi è bellissima rossa verde mamma mia arancione io questa pure la conosco pick up rosso grigia macchina grigia gialla guarda questa quanto è bella bellissima questa qua no che cosa l'ambulanza la 500 la 500 giardinetta cars cars il pick up rosso no no questa 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 è pure bella sì molto bella 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 allora secondo lato secondo lato del tir guarda come vado veloce questo dovrebbe essere una pagagna c'è anche il pullman c'è anche il pullman macchina viola della polizia pick up rosso però il pullman è della polizia della polizia sì sono tutte macchine dei mezzi speciali guarda che jeep guarda che jeep dei vigili del fuoco bellissima guarda qua guarda qua invece guarda che teniamo pure la macchina verde si la jeep guarda qua sotto abbiamo messo tutti quanti i mezzi un po più grandi poi poi che teniamo macchina arancione macchine viola blu macchinina blu completato anche quest'altro cammincino adesso riempiamo bella sta macchina bellissima la batte mobile è la batte mobile o la macchina dei pijamax la macchina dei pijamax la macchina dei pijamax guarda che macchina azzurra 8 wheels ovviamente però questa a me non funziona nelle ruote non funziona perciò noi la mettiamo sul camion però io la guido guarda che macchina guarda che macchina però io la guido così come la guidi così in che senso la guido che la faccio camminare così e per fare lavoro la faccio fare così ottimo ottimo guardate qua che macchinina guarda che macchina la serrari color proprio verde acqua e questa viola guarda quel motore sopra il cofano guardate bellissimo madonna fast and furious molto fast and furious e questa blu anzi azzurra 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 verde verde macchinina verde verde bellissima questo molto bella e questa qua portate che macchina della polizia come aggressiva polizia americana macchinina gialla gialla bella dove la mettiamo piano di sotto piano di sotto un'altra macchinina viola violet ma guarda questo la lamborghini aspetta aspetta ora la prendiamo sì la jeep guarda che jeep guarda che jeep che teniamo dei bomberos raga bellissime bellissime grazie a tutti Grazie a tutti